Il territorio di Letto Manopello da qualche giorno è sotto l'occhio di questi incendi, sono stati spenti, purtroppo hanno lambito anche le abitazioni, anche però un messaggio di speranza e di attenzione per il futuro, per un'estate che si attende caldissima. Certo, siamo stati coinvolti purtroppo in questa tragedia, adesso è stata fatta la messa in sicurezza dei posti, dei luoghi, questo naturalmente grazie ad un lavoro intenso e di sacrificio effettuato nella giornata di ieri, dalla mattina, da circa dalle ore 12 fino a questa mattina, praticamente fino alle 4-5 di questa mattina, sono intervenuti 4 canader da parte della protezione civile regionale, sono intervenuti ed effingi del fuoco naturalmente provinciali, sono intervenuti varie squadre di volontari da parte delle protezioni civile e delle comunità locali, sono intervenuti i nostri della protezione civile locale di Letto Manopello e poi naturalmente i carabinieri forestali che ci hanno aiutati anche nella conoscenza del fatto, di come è potuto accadere questo incendio doloso. Sono in corso anche delle indagini, nella speranza che venga fuori chi è stato a fare questo atto criminale. Naturalmente adesso, come dicevo, i luoghi sono in sicurezza e nella speranza che veramente sia l'ultimo episodio da poter vivere in questa estate ma per sempre. Io raccomando naturalmente attenzione, soprattutto nei posti, nei luoghi di montagna, di fare attenzione anche alla semplice cosa, nonché accendere un piccolo fuoco per fare gli arrosticini, che naturalmente si capisce, però possono essere tante di queste piccole azioni che possono determinare questi incendi. E allora dobbiamo stare attenti, frequentare sicuramente la nostra montagna, ma fare attenzione e naturalmente farlo con la dovuta cautela.